Città della salute di Novara sì al nuovo bando Allontanamento zero e proseguito il dibattito in aula Pandemie minori tra disagi e opportunità presentato il rapporto vite a colori Nuova edizione di Consiglio News ben trovati Via libera da parte dell'aula di Palazzo Lascaris al nuovo bando per la città della salute di Novara Il Consiglio regionale ha approvato con 42 sì e 2 non votanti Il documento programmatico e finanziario per la sottoscrizione del nuovo accordo di programma E dell'aggiornamento al bando per realizzare la città della salute e della scienza di Novara Il documento dovrà essere sottoscritto dal Ministero della Salute Dopo che i Ministeri della Salute e delle Finanze hanno revocato il vecchio accordo A causa del lievitare dei costi previsti e della gara d'appalto andata deserta Il nuovo quadro economico che lascia immutato il progetto prevede un costo complessivo di 419,1 milioni di euro Per la realizzazione degli edifici e della bonifica dell'area su cui sorgeranno Con un intervento dello Stato pari a 189,5 milioni Della Regione pari a 9,9 milioni E dei privati pari a 219,6 milioni L'aumento rispetto al documento programmatico precedente è di 99 milioni di euro Si tratta per il 95% di fondi statali e per il 5% regionali Non appena si conclude l'iter l'azienda operai potrà ribandire la gara E in questione di qualche settimana, spero, attendiamo la firma del Ministero delle Finanze L'opera verrà realizzata attraverso un contratto di concessione di costruzione e di gestione Della durata complessiva di 21 anni 4 per la costruzione, 17 per la gestione Attraverso la formula del partenariato pubblico-privato Non è solo Novara che deve rallegrarsi ma si può rallegrare tutto il quadrante Novara, Vercelli, Biella Infatti la Città della Scienza e della Salute sarà un hub di riferimento Avrà un'utenza che dovrà servire di circa un milione di persone con 6.600 metri quadrati È fondamentale per i nostri lavoratori del comparto sanitario Che non possono più lavorare in strutture vetuste Abbiamo visto anche gli ultimi episodi alle molinette Quindi abbiamo bisogno di rinnovare tutta l'edilizia sanitaria del Piemonte Io mi auguro che Novara sarà solo il primo nuovo ospedale Anche per arginare la mobilità passiva Che fa sì che noi ogni anno spostiamo milioni di euro Dalle casse del Piemonte alle casse della Lombardia, dell'Emilia Romagna E di tutte quelle regioni che vengono scelte dai nostri cittadini per curarsi È proseguito in aula l'iter per l'esame del disegno di legge 64 del 2019 Allontanamento zero, interventi a sostegno della genitorialità enorme per la prevenzione degli allontanamenti Il provvedimento presentato per la giunta regionale dall'assessore all'infanzia Chiara Caucino Era stato richiamato in aula prima di terminare gli istruttori in commissione sanità Secondo le modalità previste dal regolamento del Consiglio Gli emendamenti depositati al momento sono circa 500 Respinte le richieste di riviare il provvedimento in commissione per un ulteriore approfondimento E le numerose istanze di sospensiva presentate dalle opposizioni L'esame del DDL proseguirà nelle prossime sedute d'aula La carenza di medici in montagna è stata affrontata in Consiglio regionale nell'ambito dei question time Servono almeno 100 medici di base nei 550 comuni montani del Piemonte Questo è il tema dell'interrogazione del consigliere dei moderati Silvio Magliano Rivolta in aula alla giunta Cirio nell'ambito dei question time Con cui ha chiesto in che modo la regione intenda sostenere e incentivare i medici di medicina generale A lavorare nelle zone montane dove tra il 2017 e il 2022 sono andati in pensione circa 900 medici di base E si stima che altri 1700 lasceranno tra il 2023 e il 2032 Ad aprile 2022 la regione ha pubblicato le zone carenti di assistenza primaria E lo scorso 20 settembre ha concluso il procedimento di assegnazione E ha risposto con una nota l'assessore Icardi letta dal collega Matteo Marnati Il 3 ottobre abbiamo emanato un nuovo provvedimento che consente ad altre due tipologie di candidati Di concorrere per tutte le zone carenti non assegnate Tra le misure adottate il recepimento dell'accordo integrativo del 2021 Tra regione Piemonte e le organizzazioni sindacali di medici di medicina generale Con cui si consente ai medici per un tempo determinato di sei mesi rinnovabili per tre volte Di coprire un maggior numero di pazienti passando dai 1500 pazienti stabiliti a livello nazionale Ad un tetto massimo di 1800 Pandemia ai minori tra disagi e opportunità Presentato a Palazzo Lascaris il rapporto vite a colori E l'immagine del surf quella che per i 114 minori tra i 10 e i 19 anni Che hanno preso parte al rapporto vite a colori Sintetizza nel modo migliore esperienze, percezioni e opinioni Vissute durante la pandemia di Covid-19 in Italia Un'immagine che ben evidenzia la necessità di relazioni solide Per affrontare il percorso di crescita in mezzo ai mari agitati della pandemia Curato dall'Istituto di ricerca unice Finnocenti di Firenze Il rapporto è stato presentato nell'aula consigliare di Palazzo Lascaris Moderato dalla Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza Ilenia Serra E con il contributo di insegnanti e allievi dell'Istituto Comprensivo Scolastico Statale di Pianezza Quello che emerge da questa ricerca è sicuramente il bisogno dei ragazzi di essere ascoltati E soprattutto di essere presi sul serio Questo emerge tantissimo ed emerge anche comunque la forza dei ragazzi Di aver trovato anche degli aspetti positivi dal periodo che hanno vissuto Aver trovato delle nuove normalità, del più tempo magari per i propri hobby o per passare con i propri cari È stato utile per maturare perché abbiamo incontrato molte persone Ci siamo confrontati con molti ragazzi, molti avevano idee diverse dalle nostre E soprattutto essendo di varie regioni, ognuno ci si è raccontati tra noi Come abbiamo passato il Covid nelle varie regioni d'Italia E mi stupivo anche a volte perché la situazione era molto diversa rispetto a come eravamo noi a Milano e in Lombardia È importante ascoltare i ragazzi, è importante sapere i loro pensieri Ma soprattutto è importante poi metterli in pratica L'autorità garante per l'infanzia ed adolescenza ha fatto della partecipazione uno dei temi fondamentali del mandato Che sto portando avanti, lanciando anche lo scorso anno un manifesto della partecipazione dei ragazzi Indirizzato a governo e a Parlamento proprio perché le opinioni dei ragazzi vengano prese in debita considerazione Visita premio didattica per gli studenti e le studentesse dell'Istituto di istruzione superiore Giulio Natta di Rivoli Vincitori del concorso di storia contemporanea indetto dal Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale I ragazzi e le ragazze della classe quinta grafica hanno visitato l'Ecomuseo della Resistenza di Coazze E l'ossario della fossa comune di Forno di Coazze Dove riposano un centinaio di partigiani vittime di un vasto rastrellamento in alcune valli del Piemonte occidentale Tra cui la Val Sangone a opera dei nazi fascisti Era il maggio del 1944 I ragazzi oggi hanno avuto la possibilità di vedere, partecipare, sentire fisicamente con la loro presenza corporea Che poi vuol dire percepire sensazioni, emozioni Qualcosa che in effetti si studia sui banchi Per loro è ancora un argomento che verrà svolto nella seconda parte del quadrimestre Però è ovvio che la nostra resistenza e la Costituzione italiana attraversa tutto il percorso scolastico Come reagiscono anche i ragazzi nel concreto, nel quotidiano di fronte a queste tematiche? Si fanno molte domande rispetto a se succedesse oggi Ecco, che cosa ne sarebbe di noi, che cosa ne sarebbe della mia famiglia, come reagirei? Un museo che ha un'ottica moderna Nel senso che si rivolge a persone che, per fortuna, la guerra non l'hanno vista E poi abbiamo voluto dare un taglio anche su aspetti che un po' erano stati trascurati Ad esempio sulla partecipazione della popolazione, sulle donne, sugli internati Tratti di pace in mostra all'URP del Consiglio regionale È visitabile fino al 28 ottobre all'URP del Consiglio regionale di via Arsenale 14G a Torino La mostra Tratti di pace e linguaggi intermittenti Realizzata dall'Associazione Albedo di Bra e promossa dal Consiglio regionale del Piemonte L'esposizione evoca attraverso le opere di 15 artisti la ricerca della pace Sia come motore di cambiamento personale Che come strumento di impegno e rispetto per gli individui e per i popoli Con l'avvio di questa mostra all'URP, ha sottolineato il Presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia Prosegue il fitto calendario di iniziative del Comitato Diritti Umani per il 2022-2023 Anche attraverso l'arte e la bellezza possiamo costruire cammini di pace Per questa edizione è tutto Prima di salutarvi vi ricordo che sul sito cr.piemonte.it trovate notizie e aggiornamenti sull'attività del Consiglio regionale del Piemonte Arrivederci Grazie a tutti